Un altro attrezzo dell'Agile che ho provato è la pedana vibrante. Anche quella è fantastica perché facendo la pedana vibrante quando scendi senti proprio le gambe leggerissime e ti drena. Io perlomeno mi sento molto molto più sgonfia. Sì, sì, ti dà tanto in poco tempo perché comunque è come se fai palestra però nello stesso tempo non fatichi. Quindi da una parte va bene perché la pedana fa sì che comunque hai fatto un'ora di palestra però non hai faticato e quindi però hai più o meno lo stesso risultato ed è fantastica questa cosa. In effetti fa tutto la pedana senza che tu fai fatica diciamo però ottieni più o meno i stessi risultati della palestra.